Io sono il Vescovo della diocesi di Linz e il senso profondo di questa giornata è quello che noi facciamo memoria di tutti questi che sono morti in questo campo di concentramento di Mauthausen durante il nazismo, durante la seconda guerra mondiale, in modo speciale qui, in questo campo di concentramento che era terribile per tutti gli abitanti qui. E noi abbiamo visto oggi le delegazioni di più di 40 stati nazionali che hanno avuto qui anche delle vittime in questo campo di concentramento, molto commovente. E abbiamo anche pregato al mattino per loro in una celebrazione e adesso è stato questo atto di memoria, di ricordo, diciamo, e non mai fascismo, non mai nazionalsocialismo, erano le parole che abbiamo sentito. Io penso che l'impressionante è stato anche il grande numero di giovani che erano presenti e che hanno dato questa grazia, questa testimonianza. Sesto San Giovanni le ricorda qualcosa? Sì, io ricordo, Sesto San Giovanni sono i Salesiani di Don Bosco lì, anche io sono Salesiano di Don Bosco, sì. E cordiali saluti al vostro cardinale a Milano di Onigia, sì. Tanti auguri e cordiali saluti, lo conosco molto bene. Grazie.